E sia in Molise che in molte altre regioni italiane da 48 ore per la prima volta dalla comparsa del virus scendono lievemente i contagi, un dato che fa ben sperare per la fase 2. Intanto il Premier Conte in queste ore ha affermato che riaprire tutto adesso sarebbe dai responsabili tra pochi giorni, però verranno comunicate le nuove disposizioni. Per la prima volta dopo settimane di paure e decessi, i dati nazionali e locali riguardo il coronavirus iniziano a far ben sperare dopo la stretta adottata dal Governo centrale. Calano i ricoveri e nuovi contagi, una notizia questa che pone tutti verso una possibile meno rigida fase 2. Ad esprimersi in merito alla situazione in queste ore, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che ribadisce come sia dai responsabili ora dopo gli sforzi fatti, riaprire tutto al 4 di maggio. Massima cautela anche nella fase 2 prima della fine di questa settimana, si legge in una nota pubblica, confido di comunicarvi i dettagli del programma per la gestione dell'emergenza. L'allentamento delle misure, ha poi aggiunto, deve avvenire sulla base di un piano strutturato, un programma che tenga conto delle peculiarità territoriali, come pure la recettività degli ospedali che cambia da regione a regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagi. Sapremo dunque presto il verdetto.